Amici di Twitch, buonasera a tutti e benvenuti in questo 157esimo episodio di Live Talks Il format che va a invitare quelle che sono le eccellenze all'interno della cultura pop in generale Quindi abbiamo fumettisti, illustratori, sceneggiatori, attori, doppiatori E questa sera abbiamo veramente un'eccellenza stratosferica che ringraziamo fin da ora per essere qui con noi Ciao Eleonora, grazie mille per aver accettato il nostro invito Allora, aspetta, ti vedo storta e non ti sentiamo, credo Oh, sì, è vero Va bene, va bene, intanto noi andiamo un attimo avanti che risolviamo questi piccoli problemi tecnici Sappiate che il ritardo è colpa di spanchi, eh? Sempre colpa di spanchi il ritardo perché tutto quello che capita di negativo nel canale È colpa di spanchi, quindi spanchi Amici della chat sapete che quando dicono così la colpa in realtà è tutta loro e quindi va bene così Mi prendo le colpe Cosa hai da dire a tua discolpa? Dici Che siete delle bruttissime persone Menti rosse, come direbbe uno spagnolo Menti rosse Comunque quanto siete belli in chat, fatemi salutare i nostri mod Vedo Jackie, vedo fanpage, anche i nostri vips, Simona, Tommy Un saluto ovviamente anche a tutti gli altri che sono connessi Sono consapevole che vi ho lasciato col viso di Davide lì fermo per tipo cinque minuti e mezzo Però era da fare, era da fare Quello va bene, era necessario Ti mette proprio la serenità e la tranquillità Esatto, adesso nel frattempo che aspettiamo Eleonora che rientra io andrei a leggere subito i comandi chat Sono cose importanti da sapere, che dovreste sapere a memoria Ma è sempre bene andarle a ripetere, a ribadirle Fin quando non le sapete proprio a memoria Adesso ho paura che Eleonora ha detto Ok, le ho sentite parlare per un secondo Io me ne vado perché questi sono capitati Secondo me potresti avere una qualche ragione Un fondo di preoccupazione Esattamente, io credo che Eleonora non entri più Cioè perché questa è la mia ricorda Ha detto ok, ho fatto st'errore Hai presente quando, che c'è il meme di Peter? Quello che si nasconde dentro a Iola Esatto, è Homer È Homer, esatto, è Homer Vediamo Eccoci Eleonora Giuro, giuro che io non ho fatto niente 3, 2 e buio Ah, ok E noi pensavamo che non ti riconnettessi più Che come abbiamo aperto bocca Avessi pensato No, guarda Hai capito l'errore Hai detto no, basta 3, 2 Buio Poi a un certo punto si era apparsi uno alla volta Muti, immobili E poi ho toccato qualcosa Sinceramente Ma secondo me ho fatto bene Sono uscito e sono rientrata Esatto Eccomi qua Eccoci Eleonora Allora, andiamo a ricordare i comandi chat velocissimi a Spanchi Perché poi non vediamo l'ora di iniziare con Eleonora Quindi Spanchi 3, 2, 1 Posso perché non li dico da un po' Ai 30 secondi Punto esclamativo Telegram Entrate è gratuito Momenti meme e programmazioni Punto esclamativo Sub 3,99 euro al mese in su Se avete Amazon Prime è gratis Saltate le pubblicità Recuperate i voto Usate le nostre emoticon E entrate nel nostro gruppo Telegram Privato dove scrivono anche diversi ospiti Punto esclamativo ospite Quest'oggi Instagram e Facebook della nostra Eleonora Mi raccomando seguitela tutti Ma non stalkeratela Punto esclamativo quote Pesca dal calderone di frasi storiche Una cosa detta da noi o dai nostri ospiti Volenti o nonenti Che è rimasta nell'epicità del programma Quindi chissà Magari questa sera ne uscirà qualcun'altra Chi lo sa, chi lo sa Punto esclamativo partners Le voci del doppiaggio E monkey beat Punto esclamativo merce Volete la tazza del man? Volete il cappellino di Spanchi? Volete la simpatia e l'ironia di Andrea? Punto esclamativo merce Avete anche lo sconto se siete abbonati E donate Non è vero Sono andata benino Io ti dico questo In chat già hanno scritto Hashtag emotimon Cioè hai inventato Le emotimon sono le emozioni dei Digimon Ha scritto Will Esatto Sei scivolata giusto due o tre volte Spanchi Era tantissimo tempo che non lo faccio Tantissimo Per me è stata bravissima Ah vedi Va bene Va bene Io non Non voglio contraddire Però insomma Emotimon Penso che sia Eclatante Come telegrat Come telegrat Allora Eleonora Scusandomi per questa mancanza di professionalità Da parte di Spanchi Nel direi comandi Io partirei subito con la prima domanda Che noi non abbiamo nulla di preparato Se non la prima Che è uguale per tutti i nostri ospiti E secondo me è molto interessante vedere Poi come ognuno di voi Risponda Mi hanno detto Ci vuoi psicanalizzare Però secondo me è carina E te la vado a porre con un piccolo preambolo Che è questo Ti lo cambia il numero di persone Piace il preambolo Quindi lo faccio Non rompere Allora Vai vai Noi magari ci alziamo la mattina E incontriamo Quando usciamo Dieci persone Sempre dieci Esatto E in base a come noi ci poniamo con loro A come loro sono di umore Avranno magari dieci immagini differenti Di come noi siamo Però è interessante per noi vedere Come il nostro ospite Si vede dal proprio punto di vista Quindi ti chiederei Chi è Eleonora Non tanto dal punto di vista professionale Perché poi Ne andremo sicuramente a parlare Quanto dal punto di vista di Eleonora stesso Per quel che riguarda Passioni Hobby E aspetti caratteriali Per quel che riguarda Passioni hobby Magari che esulano Quello che poi è l'aspetto lavorativo Allora Eleonora intanto Come tutti penso Così Con il passare degli anni Sicuramente cambiata E secondo me È molto più fica adesso Di prima O perlomeno Nonostante Insomma Vicende Dubbiamente Drammatica Drammatiche Sembra assurdo Però Nonostante questo O forse proprio per questo Perché uno poi apprezza La vita Le cose della vita Vivo decisamente meglio Di Come potessi vivere Che ne so Tent'anni fa Trent'anni fa Io Sinceramente Vivo sempre meglio Quindi sono Proiettata verso il futuro Eleonora Proiettata verso il futuro Tendenzialmente Questo Insomma Non voglio essere Presuntuoso Ma ho un buon carattere Nel senso Non di bello Non bel carattere Quanto sei bravo Difficilmente Cerco lo scontro Insomma Sono una che Abbastanza conciliante Alle volte Anche troppo Però Frase banalissima Però È vero A volte Che mi arrabbio Insomma Tutte le persone Calme Insomma E Niente Che mi piace Mi piace divertirmi Tanto Mi piace ridere Mi piace Mangiare Mi piace leggere Insomma Cose Cose Abbastanza Normale Insomma Però ecco Sicuramente Mi piace Progettare Mi Mi Vedo sempre Che devo fare cose Possibilmente anche Diverse da quelle Che ho fatto Finora E in linea di massima Ci riesco Che figo Che figo Guarda Sì forse Ho esagerato Mi sono diventa Un po' Troppo Figa Ma no Ma Dipingiamoci Fighi Cioè Perché Se siamo persone Fighe È giusto Che questa cosa Esca fuori Quindi No A parte Gli scherzi Questa Secondo me È anche Una speranza No Cioè Nel senso Che Che secondo me È giusto Cioè Uno deve Deve veramente Imparare A A vivere Bene E a vivere Sempre Sempre meglio Secondo me È importante E bisogna Impegnarsi In questo Comunque Cioè Non è che uno Nasce Che Dice Ah che fortuna Quello C'ha un bel carattere Ah che fortuna Quello Se uno Insomma Bisogna impegnarsi A Essere felici Forse esagerato Però insomma Ecco Diciamo a vivere bene Quello sì A mantenere Un atteggiamento Positivo Sì È vero È vero Ma Eleonora Quando hai parlato Di progettare Cioè Devo progettare Mi piace progettare Mi è venuta in mente Che Ma questa cosa riguarda Anche i viaggi Ad esempio Se una persona E quando viaggia Deve progettare tutto Nel minimo particolare Cioè Guardare gli orari Dei musei No 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 È proprio Niente Il mio progettare Nel senso Di Proiettato nel futuro Ah ok In questo senso Progettare Cioè di cose nuove No anzi Io sono Ecco Un'altra cosa Che come mi vedo Sono sicuramente Molto disordinata Ed è una cosa Che Che un po' Mi dispiace Perché sicuramente Alle volte Complica un po' La vita Però C'è anche L'altra faccia Della medaglia Per cui comunque Mi riesco a barcamenare bene E No no Non Non progetto nulla In questo senso No Ok quindi Progettare nuove cose Per il futuro Era Da intendersi Esatto Nuovi progetti Ecco Diciamo così Comunque anche io Sono molto disordinata E dicono che Le persone disordinate Sono le persone più intelligenti Quindi Wow Questa non lo sapevo Ma non lo dirò Spanchi tu sei L'eccezione Che conferma Esatto Esatto Va bene Va bene Invece mi ha incuriosito Molto il cibo Perché quando si parla di cibo Quando siamo In mangiare Siamo tutti Molto felici Mi ricordo Una live Con Roberto Gammino Quando Da questa domanda Siamo andati a finire Tipo un'ora e un quarto A parlare di cibo Quindi il cibo È una passione Che accomuna un po' tutti Ma Te Leonora piace Anche cimentarti Nella cucina Oppure ti piace assaggiare Nuovi Nuovi sapori Tutte e due Mi diverto Cioè Duemila cose Duemila Robo Diavolerie No Quello per fare La pasta fresca Quello per fare Insomma Una serie Di Di Aggegi A cottura A bassa temperatura Tutte queste cose E sì Per carità Mi piace Mi diverto A cucinare Però Ho una grandissima fortuna Cioè ho un marito Che cucina anche lui Insomma Non è male Quest'estate Proprio Mi ha Io non ho fatto niente Mi ha viziata Sì Mi ha proprio viziata Bello E quindi insomma Mi piace tutte e due Però ecco Se devo scegliere Forse Più mangiare Più mangiare Che preparare Chiaro Chiaro Ma Eleonora Invece io ho una curiosità No Abbiamo Insomma La tua straordinaria carriera Penso sia sotto gli occhi di tutti Però la mia curiosità è questa Per fare Questo Lavoro A così alti livelli Penso che ci sia bisogno Anche di tanta passione No Sì Però Sono curioso di sapere Se Quello Il sogno Che tu avevi da bambino Oppure la La grande passione Che tu avevi Inizialmente Da giovane Corrisponde poi Con quello che È stato il tuo percorso Lavorativo Oppure potendo scegliere Avresti Preferito essere Non so Astronauta Cantante Allora Guarda Cantante magari Mi sono stonata Cantante mi sarebbe piaciuto Da morire Da morire Io adoro Musical Proprio Per carità Poi non mi sono impegnata A sufficienza Ma insomma Sicuramente non era la mia strada Sicuramente non ero portata No Io Io penso Talmente Ho sempre desiderato Lavorare in quest'ambito Che pensavo che tu Mi parlassi Di doppiaggio Cinema Teatro Non ho ancora Poi ho detto Astronauta Ho detto Dio No Diciamo Ricitare Il sogno De bambina Capito Ricitare Sempre Devo essere Sincera Più Più o meno Sempre Poi insomma Stando in una famiglia No Che bene o male Ha respirato Teatro Cinema Doppiaggio Da sempre Poi ovviamente Prevalentemente Doppiaggio Mi sembrava Abbastanza naturale E devo dire Quello mi è sempre L'ho sempre Pensato Lo penso ancora Cioè mi piace Talmente tanto Recitare Che soprattutto Quando ero piccola Adesso che sono più grande Chiaramente no Però per me Erano un po' bugiardi Quelli che Non Capito Non è possibile Che non ti piace recitare Per me era l'unica Era la cosa più figa Del mondo Quindi non No Non avevo altri sogni Ce l'avevo Nell'ambito Sicuramente Per esempio Io mi ricordo benissimo Quando vedi Saranno famosi No? Fame Il film Degli anni In setta In pagrillo ormai E Dissero Madonna Che bello Quanto mi piacerebbe Fare una scuola così Peccato che non esiste In Italia Mia madre E mio padre Dissero Come no L'ha fatta papà C'è l'accademia D'arte drammatica Eccetera E E quindi poi da lì Insomma vabbè Ho cominciato a doppiare Abbastanza da piccola A 14 anni E poi ho voluto fare L'accademia Tratta dal Dal teatro Devo dire la verità Anche da questo tipo Di scuola No? Così Così divertente Dove c'hai danza Canto Storia del teatro Mimo Insomma Maficata ovviamente Stai lì tutto il giorno Eccetera Eccetera E poi piano piano Sono tornata Al doppiaggio Un po' per Per comodità Devo dire la verità Perché comunque poi Il doppiaggio Ti fa fare Una vita normale No? Cioè tu esci la mattina E torni a casa la sera Che non è poco Per un attore E quindi Un po' per quello Un po' perché Lo dico Mi fa piacere dirlo Perché magari Può essere D'aiuto a qualcuno Perché dopo l'accademia Ho sofferto un po' Di attacchi di panico Quindi comunque Ovviamente il teatro Era proprio Mi ha terrorizzato Per un periodo Addirittura Anche il doppiaggio Ai turni Non vedevo l'ora di finire E insomma E poi invece Ho scoperto che Che il doppiaggio Mi piace proprio tanto Perché Appunto Quello che a me piace È recitare Non importa dove Capito? Non importa se è a teatro Se è cinema Che ho fatto pochissime cose Dei corti O doppiaggio Cioè L'importante è Recitare Sicuramente con il doppiaggio La cosa bella È che reciti tutto il giorno Tutto il giorno Cose diversissime E cose bellissime No? Perché Hai un Doppi un film Pazzesco Che voglio dire Sì magari Difficile Che magari dopo il film Che poi vince l'Oscar Doppi l'attore E quindi E quindi No Un po' triste Però non avevo altri sogni Da bambina Forse E E E niente No Ecco Mi ricordo Mi ricordo Adesso Che da piccolissima Volevo fare la trapezista La trapezista Beh è particolare Come Sì perché mi piaceva da morire Guardare questi Che volavano così E Questo me lo ricordo Volevo fare la trapezista Basta Poi sono Mi sono incanalata subito In quello che poi È stata la mia vita Insomma Che figura trapezista Successo Sì è vero Vero Ma Io ho un'ultima domanda Poi lascio la parola ovviamente Ad Andrei Spanchi Se ti va No Spanchi Quando vuoi Quando vuoi Eh come si sta meglio adesso Vero Guarda che bella tranquillità Non c'è più quel ronzio Esatto Eccola Eccola No io ovviamente scherzo Mi buttano fuori Però questa domanda Coinvolge un po' anche te Spanchi Perché Devi sapere Eleonora Che la nostra Spanchi Studia doppiaggio Ok E E quindi Massacrata da tutti Perché il suo maestro Massimo Corvo Che quando è stato da noi in live Ha detto Io ho fatto Ma come Spanchi Va bene Brava Beh Diciamo che si applica E quindi Insomma Questa Questa risposta Mi ha aperto un mondo Su Spanchi Però la mia domanda Che vorrei farti E l'onore è questa Secondo te La Tanta pratica Può andare a sopperire Poi la mancanza Di predisposizione Mi spiego meglio Io Mi ricordo Che quando ho iniziato musica Cioè Mi sono svegliato A 30 anni Ho detto Ok Voglio iniziare a suonare il pianoforte Però Ho sempre avuto L'orecchio assoluto Quando sono andato Dal mio maestro In 5-6 mesi Ho fatto cose Per lui incredibili Il mio maestro Poi è un Compositore A livello internazionale Si chiama Luciano Michelini Mi disse Guarda In realtà Non è importante Il tempo Che ci dedichi Cioè È molto importante È molto importante Però Non devi essere solo te A scegliere la musica È la musica Che deve scegliere te Questo nel senso Che non Non è scontato Anzi Non è È quasi certo Per lui Che chi non ha Una predisposizione musicale Anche con l'esercizio Non possa comunque Diventare un bravo pianista Ecco Secondo te Invece Nell'ambito Della recitazione La tanta pratica Può andare poi A farti diventare Un eccellente attore O comunque ci vuole Quel pizzico di Predisposizione naturale Ci vuole Sicuramente Cioè Un eccellente attore Secondo me no A parte Torniamo al mio discorso Di prima Un mestiere così bello Lo farebbero tutti No scherzo Però Però Ci vuole Ma È importantissima È importantissimo Lo studio Importantissimissimo Lo studio Magari la pratica Ecco Un buon attore Può In linea di massima Cioè A meno che Ci può essere Anche un bravo attore Che poi Non riesce ad apprucciare Al doppiaggio Insomma Però Insomma In linea di massima Un buon attore Studiando Può diventare Un ottimo doppiatore Insomma Altrettanto E Però Per la recitazione Secondo me Ci vuole Una Una predisposizione Ci vuole Che poi Non è detto Che esca subito Cioè Nel senso Che Non Che non è detto Che 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 un allievo Appunto Anche In accademia No? Io l'ho visto Per esempio Persone che all'inizio Magari Non davano tanto Poi invece Hanno superato Quelli che magari All'inizio Erano più portati Quindi Magari Può non uscire Subito Questo sì Può essere nascosta Può essere latente Però secondo me C'è Cioè io sono d'accordo Con il tuo Con il tuo Maestro Anche per questo Secondo me Ai bambini Bisognerebbe far provare Tutto No? Perché Magari Non lo scoprono Pazzo Parlavo di questa cosa Proprio con Con mio figlio L'altro giorno Si parlava proprio Del talento Mi chiedeva Mio figlio piccolo Ha 14 anni E Io gli dicevo Proprio questo Cioè il talento Comunque va Va scoperto Indubbiamente Va proprio Strasuper coltivato Con Con lo studio Poi insomma Tu lo sai Penso no? Penso tu sei d'accordo Con me Anche per la musica Cioè comunque La pratica E lo studio Si Per me sono Sono Importantissimi Comunque No no Assolutamente Però volevo sapere Anche la tua opinione Perché io sono d'accordo Che comunque La pratica È necessaria Cioè il talento Da solo L'abbiamo visto In tanti ambiti Non Se non è supportato Poi dalla costanza Dalla pratica Va un po' Morendo Però sono Sono fermamente Convinto Che Una persona Che Ha un talento Innato E che lo coltiva Sarà comunque Sempre Migliore No? Concedetemi il termine Qualitativamente Parlando Rispetto a chi Non lo ha E parte da una base Inferiore Certo Poi soprattutto In In tutto Secondo me Ma soprattutto Ovviamente In ambito artistico Cioè comunque Sia Poi c'è anche Il talento Matematico Queste sono tutte No? Però ecco Il talento Viene più usato Secondo me Giustamente In ambito artistico E insomma Soprattutto in ambito artistico Ovviamente Questo Questo discorso È valido Quindi Ok Ok Grazie mille Eleonora Per la risposta E di che? Pre Allora Adesso darei la parola Proprio a chi Il talento Non ce l'ha Però si sta applicando Che è la nostra Spanchi Prego Andrea Tocca a te Quindi Prego Spanchi L'ha detto Massimo Corvo Non io Cioè io alzo le mani Ogni volta che racconti La storia di Corvo Va sempre peggio Sto riportando Le parole del tuo Insegnante Spanchi È una citazione Non è Non se ne è farina Non me la ricordo Per niente così Ti invierò il video Comunque va bene Va bene Io invece Volevo chiederti un aiutino Eleonora Perché io Visto che Ormai è uscita questa cosa E quindi studio E quindi vado un po' qui Un po' lì Sì vabbè Però non chiede Raccomandazioni in diretta Ma zitto Quali raccomandazioni Non se fa Non se fa Non se fa Stacola Aiutini Il preambolo Non è dei migliori Se mi fate finire Vedo e conosco Tanti ragazzetti Di questa nuova generazione Che prova è Ma veramente Il 90% È proprio Inondato Da una sensazione Di ansia Generale E proprio Di vita Visto che tu Hai detto poc'anzi Che avevi attacchi di panico E cose del genere Hai qualche consiglio Per questa generazione Piena di ansie? Allora Vabbè Intanto sono Rispetto alla mia generazione Parlando Più nello specifico Di cose più importanti Quali Attacchi di panico Sono avvantaggiati Perché all'epoca mia Insomma Non se ne parlava tanto Quindi Io mi vergognavo Prima che l'ho detto Sembrava che Chissà che ci avessi Mi sentivo matta Ho detto Dio Meglio Non è manicomio Quindi questo Secondo me Già loro Sono avvantaggiati In questo Sicuramente Al momento storico Poverini Che devo dire Sicuramente Ne hanno di più Per quello Che riguarda Tu intendi L'ansia proprio Alleggio Cioè l'ansia Da prestazione Anche sì Io vedo quella Direttamente Quindi Sì Poi Che abbiano l'ansia Nella vita Quella Quella è Da una parte Benzina Da una parte Devono vincerla Si vince Parecchio Con l'esperienza Sicuramente Io do per scontato Però è sempre meglio dirlo Per fare il doppiatore Devi saper recitare Per saper recitare O per tirare fuori Le tue qualità E comunque Per studiarci sopra Devi fare una scuola di teatro Secondo me E Il teatro Aiuta anche in questo Cioè Comunque Sia Nel No Nel mettersi in gioco Nel tirare fuori le cose Nello stare Al centro Sotto gli occhi di tutti Però allo stesso tempo Invece Con te stesso Insomma Comunque Il teatro Secondo me Vabbè Io poi Secondo me Aiuta proprio nella vita Comunque Per fare il doppiatore È È fondamentale E secondo me Aiuta anche per questa Per questa cosa Dell'ansia Poi il resto Io lo dico sempre Però mi rendo conto Non è facile Anche perché Ero timidissima Quindi Di 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 buttarsi Anzi di prenderlo Anzi Proprio come un Che ti posso dire Quasi uno sfogo E comunque di fare Di fare tanto Di fare Più che po' Quando tu ti trovi Lì a leggio Devi fare una scena Parti Vai Fregatene Di fare quella Troppo Recitata Troppo Disperata Troppo La risata Troppo Forte Capito Tira fuori Tutto Tutto il troppo Che Io invece Quando ero più giovane Magari Tendevo Insomma Ovviamente Trattenere Beh sì Ha un po' Di Di pudore Quindi Però Io Passare dal teatro Lo ritengo Un passaggio obbligato E anche Per Curativo Sì Curativo E anche Come dire Proprio come un allenamento Capito Cioè Comunque sia Anche perché poi Se tu sei più allenato C'è meno C'è meno paura Giochi meglio No Quindi Insomma Sì Ok 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 Grazie Va bene Allora Io la faccio A scuola di teatro Brava Te lo stavo per chiedere Poi ho detto No vabbè Vabbè Spanchi Ma prima si è parlato Del talento No Che comunque è necessario La predisposizione Tu sai che Da questo punto di vista Non c'è Io ho talento Quindi Prova a fare Cioè Magari c'hai un bellissimo talento Ne so Raccoglie franco bolli Non lo so Lo scopriremo Se ho del talento Adesso sto Allora Allora Io mi fido Più di Massimo Corvo Però insomma Sono contento Se tu dovessi riuscire A esplodere Ma erano gli inizi Cominci a prepararti Le risposte Per quando ti inviteranno Qua Credo che Comunque Non lo farebbero mai Anche se Non è vero Io lo dico qua Davanti a tutti Se dovessi diventare Un'eccellenza Cosa di cui io Dubito Sarei pronto Anche a giocare Per i cari della macchina Qui finito Da adesso Di casa Quello che vuoi Allora Dovessi diventare Un'eccellenza Io ti inviterò Assolutamente Come ho fatto Con tutte le nostre Eccellenze Bene bene Però insomma Posso essere scettico Posso essere scettico A riguardo No Posso fregarmene Del tuo non incoraggiamento Spanky Emotimon Com'era Emotimon Emotimon Andrea prego Sì Allora Eleonora Mi dispiace Ma le mie domande Non hanno un preambolo Come quelle di Mauro E Giulia Quindi Vado dritto al punto Volevo chiederti Qual è il consiglio Che daresti Alla te stessa Da bambina Visto che ci hai detto Appunto Che preferisci La tua versione attuale No Oddio Da bambina Che domandona Da bambina Pure io stavo bene Forse Diciamo Da bambina Un po' più grande Eccetera Di fregarmene Un po' Abbastanza banale Come cosa Comunque Di fregarmene Dello sguardo Degli altri Del giudizio Degli altri Io l'ho sempre Sentito molto Ma io penso Alla fine Poi un po' tutti Non lo so Soprattutto quando si è piccoli Quindi quello Mi sarebbe Mi sarebbe piaciuto Però insomma Da bambina No Non mi viene in mente Nessun consiglio Se non Eleonora Quando sarai un po' più grande Che vedrai Gli altri Che ti guardano Che c'hai Quello Che c'hai I capelli così Che c'hai Insomma Perché ero timidissima Quindi comunque Io fino a Ai 25 anni Non lo so Insomma Ho passato No Era un romale Cioè Avevo una vita normale Però avevo Cioè era un po' doppia Per cui Ero da una parte Come tantissimi Quando sto in mezzo Alle persone che conosco Divertente Casinale Eccetera Ma mi ricordo Una timidezza Insomma Che rasentava Veramente Il disagio In certe situazioni Quindi E secondo me Derivava da quello Dallo sguardo degli altri Non si sa perché Ti debba condizionare Così tanto No? Quindi forse Sì Sì Però non è facile Credo che faccia parte Della crescita Dell'età Insomma Alla fine Non Madonna Sto dicendo un sacco Di banalità No 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 È vero È molto molto interessante In realtà È molto particolare Perché il concetto È proprio quello Cioè spesso Si insegue un'aspettativa O un pensiero altrui Ma in realtà Inseguendo un qualcosa Che effettivamente Può cambiare Da secondo in secondo Come diceva Mauro Nel suo preambolo Da mattina in mattina Non arriverai mai alla fine Sarai sempre insoddisfatto Vivrai sempre Con quell'ansia Del mondo Che ti giudica Però in realtà Cioè Ti devi guardare allo specchio E devi essere A posto con te stesso Secondo me Poi non è facile Applicarlo alla vita Di tutti i giorni Però Quello deve essere Il Il monito No? Sì Come al solito Vero Allora Raga Vi concedo un'altra domanda A testa Prima di passare Alla chat Perché la chat È carichissima Vedo veramente Un botto di domande È già partito l'hashtag Sequestriamo l'ospite Ancora prima della chiusura Sì Eleonora Perché quando ci accingiamo alla fine Verso le 11 e 20 25 Inizia a partire l'hashtag Sequestriamo l'ospite Adesso è partito con un'ora di anticipo Quindi pensa quanto sono felici Sicuramente non stai dicendo cose banali E noie Esatto Esatto Altrimenti non avrebbero E mi raccomando Continuate ad evidenziarmi le domande Perché sennò voi scrivete Io me le perdo E non riesco a leggerle Utilizzando i gigawatt Che sono i nostri punti di canale Vatelo lavorare Peggio per voi Se non lo fate Non le vedo E non le leggo Ovviamente non le leggeremo tutte Ma andremo a casualmente Casualmente vuol dire Pesco a caso Non è vero come dicono Andrè Spanchi Che le scelgo Scegli tu sempre Pesco a caso No no Il tuo è un pescare a caso condizionato Cioè nel senso Tu dici Oh che bella sta domanda Poi leggi le prime tre righe Fai quella sotto Cioè credo È bellissima questa Esattamente È un po' come ti pare Vabbè però Allecito Cattedrale a regule me Come dice Però possiamo lamentarci Voi potete far quello che vi pare Siamo in democrazia Ovviamente Spanchi Prego Dai Ma io sono curiosa di sapere Eleonora se per caso Per caso Hai Non ho capito che hai detto Che ti hanno detto Aspetti di mutarmi Guarda M'hanno mutato Non è vero Ma non è vero Non hai le prove Non hai le prove L'hanno visto tutti dalla chat Comunque Voglio sapere se Per caso Hai come passione La subacquea Oppure le moto Perché tantissimi I tuoi colleghi Ci hanno detto Che No Però c'è quella Per il cibo La subacquea Mi sarebbe piaciuta Però no Non ci sono mai andata Sarebbe stato bello Però c'è quella Per il cibo Che rientrava Perché Questa cosa Ha una storia Cioè nel corso Di questi 157 episodi Sono nate Tre macro Categorie Di passioni No Prima si è partito La subacquea Poi Le moto E poi Si è aperto Anche al mondo Del cibo Proprio Il mondo culinario Quindi Almeno una Delle tre Insomma Abbiamo già visto Prima La descrizione Che c'è Le altre due Ok Ci sta Insomma Le altre due Non tutti Sono appassionati Delle stesse cose Fortunatamente Sennò Sarebbe un mondo Triste e grigio Andrea Prego Sì Allora Io volevo chiederti Se Prima ci hai detto Dei tuoi attacchi Di panico No Che ovviamente In quel momento Saranno stati giustificati Appunto Da motivazioni serie Volevo chiederti Però se È capitato Anche durante Il lavoro Magari Soprattutto Davanti a una Lavorazione importante O magari Mi immagino Un primo provino Con quel direttore Particolare Di trovarti Uno stato d'ansia Per cui Uscita da lì Hai detto Ok Ho rovinato tutto Ma guarda Noi Per quanto riguarda I provini Di doppiaggio Ne facciamo talmente Tanti Che sinceramente Almeno per quello Che riguarda me Sì ci posso tenere Un po' di più Un po' di meno Per carità Però Posso uscire E dire L'ho fatto bene L'ho fatto male Che poi Spessissimo Non corrisponde Perché uno poi Non ha una Grandissima percezione Di sé Però Tu fai tutto bene Spanchi Va bene Ti chiamerò Un turno Esatto Eleonora Non si fa comprare Così facilmente No non è vero Cioè non è vero Il turno Eh sì Sto giocando E quindi No Cioè se devo Essere sincera L'emozione Mi Cioè ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho sempre Però Non che l'ho fatto male Per colpa Di emozioni Lo posso far male Perché sono stanca Lo posso far male Perché Perché non lo so fare Lo posso far male Perché Che ne so Perché Ero distratta Perché non l'ho capito Insomma Però ecco Un provino Proprio Che io Ho fatto male Perché mi sono fatta Prendere dall'anziano Però Ti posso dire Che appena uscita Dall'accademia Sentivo molto Dove dimostrare No Che comunque Ho fatto accademia Teatro Quando era un direttore Era un attore di teatro Plipposto affermato Insomma Ce ne sono stati parecchi Con cui ho lavorato Un pochino più Danzietta ce l'avevo Cioè Di dimostrare Di più Capito In quel senso Ecco Magari in quelle circostanze Sì Però Però secondo me Vuol dire tantissimo L'abitudine Almeno per me Quindi Sono contenta Ma veramente Per noi È veramente routine Comunque Fare i provini È chiaro Che se lo farebbero Una cosa importantissima Ci tieni di più Però Insomma A un certo punto Diventa Normalità Insomma Anche la gestione No Dell'emozione Davanti a Sì D'emozione Intendo ovviamente L'emozione Appunto Di ansia Di paura Non di emozione Perché poi Chiaramente Con questo lavoro Per fortuna Ti emozioni spesso No È per quello Che poi Io dico Come fa a non piacerti Ricitare Nel senso Che È così bello Emozionarsi Avere l'opportunità Di vivere Tante emozioni In un giorno Cioè Come fai Ad averla Forse ce l'hai Anche in altri modi Però per me E io sono contenta Mi pagano Per questo Mi sembra Veramente Che posso chiedere Di più Allora È arrivato Un commento Al quale io Mi vorrei dissociare Completamente Che è di Chuck Spire Che scrive Man Vedi che Continuando così Ti ritroverai spanchi Nella prossima stagione Di The Boys Allora Se spanchi Mi rovi Se spanchi Mi rovina Quel capolavoro Assoluto Che è The Boys Sia in fatto di Prodotto originale Che in fatto di voci Io veramente Ma spanchi Nemmeno quando prova a casa Può usare La clip Ma neanche Rutto 6 Può fare Spanchi Noi ti ascoltiamo Tutte le sere Cioè più di noi Non ti ha ascoltato Nessuno Manco lo specchio De casa tua Ti ha ascoltato Più di noi Abbiamo la tua voce Qui anche quando Dormiamo Allora Domande da lasciare Domande dalla chat Facciamo partire il jingle Che è brutto Ma a voi piace Quindi Ragazzi della chat E niente Scusa Un giorno lo cambieremo Ma non è questo Mi fanno cambiare Questa cosa bruttissima E io Non è vero Allora La prima domanda Che vedo È di Tommy Buonasera a tutti Al men Andrea Spanchi Alla nostra ospita di questa sera Volevo chiederle Se ha dei ricordi Di Tonino Nel doppiaggio Di una settimana D'addio No Perché Colonna separata È perché L'abbiamo fatto In colonna separata Per cui io Andavo Facevo la mia parte Lui andava E faceva la sua parte Quindi non L'ho visto E il ricordo Ce l'ho Quando mi è capitato Di rivedere quel film Che insomma Secondo me tra l'altro È carinissimo Nella sua Bravura Riguardo a quel film Come sempre Del resto Poi ci ho lavorato Ci ho lavorato Con lui come direttore Insomma per carità Ricordi ce no Però insomma Riguardo a quel film No Ok Ok riguardo Che delusione Mi dispiace No E beh In realtà Il fatto della colonna Separata Ormai è È un qualcosa Di A cui siamo abituati No Il racconto Della colonna separata È molto frequente Però appunto Ci sta Sì però il film È vecchiotto Quindi all'epoca Poteva anche capitare Ancora di Stare insieme Però in quel caso Insomma Le circostanze Probabilmente Tommy hai fatto Una domanda troppo specifica No però Veramente Anch'io sono stato sorpreso Della colonna separata Perché è vero Che adesso è diventata Diciamo Il Cioè La cosa Cardine No Però All'epoca del film Cioè Il film Di tanti anni fa 2003 2003 20 anni fa Quindi Sì Oddio Già si cominciava Solo che All'epoca si faceva Soprattutto Per Questione di disponibilità Degli attori Capito Magari Non avevano Cioè Due protagonisti Hanno bisogno Di 14 turni Se li separano Sono sette turni Per una Magari riescono A incastrare meglio Adesso purtroppo Vabbè Covid va da sé Però anche da prima Insomma Spesso richiedono Incisioni Su piste separate Eccetera Sì Questo è molto brutto La nostra fanpage Che bello Sì Abbiamo una fanpage Buonasera Almen E fatemi dire Non l'ho aperta io Cioè Ragazzo Questa è una cosa Sottolineare È una cosa fondamentale Buonasera Almen Agli streamer Alla nostra ospite Ringrazio la signora De Angelis Per essere qui con noi E vorrei cogliere L'occasione Per chiederle Quale Tra i ruoli A cui ha dato la voce Crede sia più simile A lei A livello caratteriale Me la fanno sempre Questa domanda E la risposta È Rachel Dei Friends Lei è spettacolare Veramente Anch'io No Scherzi Beh È assolutamente Perché se è più simile A te A livello caratteriale Se lei è spettacolare Anche te Sì È spettacolare No no A parte gli scherzi Sì Che ne so Insomma C'è tante cose Tante volte mi sono ritrovata Sai È stata È stato bello Fare quella serie Anche perché noi Avevamo Ovviamente La stessa età E Insomma Erano cose Che era scritta così bene Che erano cose Che ci capitavano Tutti i giorni No Anche nelle nostre vite Non so Parlavo della ceretta Del bacio a quello Insomma Tutta una serie Di cose Per cui E tra le tre Sicuramente Io con lei C'avevo più Più affinità No Che ne so Monica No Tutta ordinata Decisa Insomma Dressel Dressel Senza che mi dilungo Sì È risposta Alla domanda Del nostro amico Ok Allora Eleonora Buonasera Vorrei chiederle Com'è stata la sua esperienza Di doppiaggio In una serie tv Amato Riverdale Dove ha dato la voce Al personaggio di Alice Dunque È una serie a cui Sono affezionata Perché io sono Sono stata per tanti anni All'interno della Cdc Cioè con l'esclusiva No E poi A un certo punto Insomma Ho deciso di Di diventare libera Si dice da noi Insomma Comunque Di lavorare con tutti No Di non avere l'esclusiva Solo con loro E questo è stato il primo Proprio Ne ero appena Ne ero appena A faccia Perché è strana Questa cosa Cioè io ho lavorato Per trent'anni Negli stessi studi Più o meno Chiaramente poi Andavo a fare Qualche altra cosa Però E quindi mi ero Affacciata a questo Nuovo modo di lavorare No Per cui lavorare Con tutti Andare in giro Tutti gli studi Insomma È completamente diverso Adesso è difficile Spiegarlo Però insomma Penso che si capisca Abbastanza facilmente E questa era Era la prima Ci sono affezionata Ovviamente Per questo motivo Perché il Il personaggio È bello L'attrice è brava E anche perché È grande D'età Nel senso che Quando l'ho vista Ho detto Dio Ho detto Questa vecchia Perché a noi ci succede Un po' questa cosa Capito Cioè noi non ci rendiamo Conto No è vero Non ci rendiamo conto Perché tu vai E faccio Madonna Devo fare La madre di Doppiatore Che effettivamente Potrebbe essere Il mio figlio Capito Però Cioè ci Dipingiamo sempre Secondo me Cioè ci vediamo Almeno io Che sono insomma Tendenzialmente ottimista Più giovani Di quello che siamo E invece Ovviamente No ovviamente L'ho fatta bene Ovviamente Avendo la stessa Insomma più o meno La stessa età Credo che lei sia un po' più grande Non lo so Però Cioè mi ci sono trovata bene Sono stato Mi è sembrato una sfida Non so come Come spiegare Quindi per me È stata importante E mi sono Divertita Tantissimo Ho fatto un po' fatica Sempre nel via Delle colonne separate A capire la trama Devo dire la verità Però Insomma Una bella esperienza Ok Ok Altra domanda Roberto Qual è l'aspetto Che le piace di più Del doppiaggio E qual è invece Quello nella direzione Allora Sono due cose Completamente Diverse Due tipi di Di vita Diversi Cioè io Proprio Un Un umore Diverso Anche quasi Quando vado a un turno Di direzione E quando vado a un turno Di D'attrice E Turno d'attrice Non hai responsabilità Non hai Chiamiamoli Compiti a casa Sei Fai quello Di cui parlavo Prima Il fatto di recitare Tu reciti Vai là Tutto il giorno Vivi le tue emozioni Ti metti alla prova Con le tue capacità E quindi è un È un atteggiamento Più Più Istintivo No E quindi più Per me Più Più Allegro Più divertente Non so come dire La direzione Ha tutto un altro fascino Cioè la direzione È il Il dedicarsi Completamente A un'opera Quindi comunque La pensi Anche quando Non sei in sala Pensi a quello Che può fare Quello A quello Che può fare Quell'altro E a una battuta Che magari Hai curato Di meno Hai curato Di più A una scena Che hai visto A casa Sai che farai fare A quell'attore Che può avere Quelle difficoltà O al contrario Quello È tutto molto più Più di testa E chiaramente C'è una grande soddisfazione Cioè io ancora oggi Alle volte Mi sembra impossibile No Perché poi tu Va in sala Fai il primo Da direttore Incidi il primo personaggio E c'è tutto il resto In lingua originale Per cui E poi arrivi A un poco più di metà No Che invece Si aggiungono Le voci E poi Alla fine Quando stai alla fine Devo dire La soddisfazione è tanta Perché se tu vedi Un prodotto Completamente originale Se poi dici Che Tu Perché comunque Sei tu che scegli le voci Sei tu che dici Che va bene Sei tu che fai tutto È sempre un piccolo miracolo Quindi E poi Ti dà anche il fatto Che Quando sono prodotti Molto belli Li apprezzi Tantissimo Perché Vedi più Le sfumature Degli attori I dialoghi Le scelte registiche Lo vedi Lo rivedi Lo rivedi Lo rivedi Che da una parte Tu dici oddio Madonna Uno non ce la fa più E quando il prodotto Non è bello È così Però con i prodotti Belli Noti Duemila cose Quindi è Bellissimo Però Sono proprio Per me Sono proprio Due Due mondi diversi Due mondi diversi Se devo essere sincera Io dico sempre Per Per far capire Il mio stato d'animo Questo forse Aiuta Che quando Ho i turni Di attrice Io Faccio Cioè Vado Faccio Recito Diciamo E quando Ho i turni Di direzione Lavoro Cioè L'atteggiamento È un po' diverso Un lavoro Meraviglioso Un lavoro Che dà Tante soddisfazioni Un lavoro Che riesce A essere Anche quello Artistico Però un lavoro Cioè È proprio Un impegno Capito Un E invece Sinceramente Il resto Più 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 Un gioco Serio Con l'impegno Eccetera Però È diverso Insomma Completamente Tutto un altro Un altro approccio Quindi mi piacciono Tutte e due Però Insomma Appunto Quando Fatico un po' di più Usiamo la verità Mentre parlavi Mi è venuta in mente La descrizione Che si fa Generalmente Di un Grande pittore Che si dice Che la Differenza Fra un grande pittore E un pittore normale È nell'abilità Di vedere Nella tela Vuota Nella tela bianca Il prodotto Già finito Quindi Questa cosa è stata portata Anche a livello imprenditoriale Insomma Nei vari settori E effettivamente Mentre parlavi Della direzione È un po' così Cioè tu A scatola chiusa Immagini Tutto quello che Possono essere anche Gli abbinamenti E le voci E poi man mano Che vai avanti Vedi il quadro Che si compone E il prodotto Poi è finito Infatti Infatti quello è bello Cioè C'è proprio Un passaggio No E Quello Sicuramente Sicuramente È bello E poi appunto È una cosa Che ti porti a casa Soprattutto quando Hai un po' più di tempo E quindi Anche la scelta Delle voci No È comunque È bello Insomma Come costruire Come costruire un'orchestra Assemblare un'orchestra Sì esatto Perché devi stare attento Anche a quello Sai Comunque Quella poi L'esperienza Chiaramente Ti aiuta tantissimo Però Non mettere Tra Oltre Alla voce Adatta Al Come dire Alla Verba Al Al carattere riduttivo Perché un attore Chiaramente sa fare tutto Però insomma Il tipo di personaggio Adatto a un doppiatore E anche Al fatto che però Non si devono Assomigliare No Perché è fastidiosissimo A volte succede Che magari uno Sceglie due voci Simili E Insomma Anche quella Come dice giustamente Non mi ricordo Che Dio E l'ha detto Come un Un'orchestra Comunque sia Quindi devono suonare tutti In maniera diversa Infatti Un'altra cosa Che si dice È che non tutti I bravi No I bravi artisti I bravi musicisti Sono in grado Poi di diventare Direttori d'orchestra Cioè ci vuole Anche lì Una specie di predisposizione Cioè un'apertura Una sensibilità Che va oltre La conoscenza Dello strumento È proprio una conoscenza Globale Generale Anche del percepito Del piacere Cioè È tutta una sfera diversa Ed è bellissimo Perché Effettivamente aggiunge Secondo me Quel Quell'aura Praticamente Ha un lavoro Che è fondamentale E di cui In realtà Negli ultimi anni Cioè soprattutto Quando si dice No Magari ha quella voce Però di qua Di là Per molti anni Spesso il direttore Di una cosa Di una serie Di un film Di un film D'animazione Passava un po' In sordina E ovviamente Riecheggiavano le voci Anche a livello Proprio di notorietà Di un commento Di una recensione Oggi invece La gente sta lì E dice Ok Questo personaggio Ha doppiato questo La direzione è stata Di Tizio Fatta in questo studio Quindi oggi C'è anche un po' A livello di critica Generale Una visione Un po' più ampia Questo è bello Insomma Da lustro No A lavori che veramente Sono proprio Al buio Quindi Sì Poi guarda A proposito di questo Io racconto sempre Questo Questo aneddoto Che è vero No Dei lavori al buio Eccetera Tu pensa che Insomma Adesso Intanto Ci stanno I ragazzi Che dicono Io voglio fare Il doppiatore Cioè La generazione mia Non esistevano Cioè Volevano fare gli attori Poi magari Volevano fare i doppiatori No E quindi Anche per quello Io insisto Ogni volta Lo dico Dovete fare teatro Dovete fare teatro Ma Quindi Doppiatori Si sa benissimo Chi è Che cosa fa Quando ero piccola Mi dicevano Che il lavoro Fa tuo padre Doppiatore E tu E che è Quello che dà la voce Ma perché Non è così Non è iniziato Non avevano proprio Non si ponevano neanche l'idea No? Che esistesse un film Che il film era in inglese Cioè E quindi Quindi sì Insomma Ammestiare Che sicuramente È emerso Dalle tenebre Diciamo In realtà Maggior ragione Anche quello del Ovviamente Non c'entra Con il discorso Abbiamo fatto adesso Però anche quello Dell'adattamento È un Un ruolo Che piano piano Sta Assumendo No? In realtà è stato fondamentale Sempre Viene L'esempio proprio di Friends Perché ho visto In questi giorni Diverse clip Che confrontavano L'originale Con poi Come è stato adattato L'adattamento Dei testi È una parte fondamentale In realtà Del prodotto Che andiamo a fruire Eppure non sempre È stato riconosciuto Poi l'adattatore Che ha avuto Quell'idea Cioè insomma Invece oggi È facile È un bene Questa cosa Anche perché Sicuramente C'ha più cura Cioè Comunque sia I Friends Cioè Sono state Prese Delle toppe Clamorose Poi insomma Per carità È È collocato In quell'epoca Poi si lavorava In un'altra maniera Quindi è Però sì Assolutamente Anche l'adattamento È super importante Ovviamente Ovviamente In termini Di traduzione Di dialogo Ma Secondo me Anche se poi Ultimamente Magari viene sottovalutato Eccetera Secondo me Anche a livello Di sync Nel senso Che Che tutto Beccare la labiale Beccare Cioè Studiare Per bene In modo Che quella frase Sia I battiti Concitano I battiti Ma Ma l'espressione Cioè Dove Deve cadere La parola Dove quello Dice No io l'ho visto Fai conto No Cioè E comunque Quello dice Io l'ho visto Cioè Tu ci devi mettere Una parola Che devi considerare Che poi fa visto Capito Cioè Sono tutte Una serie di cose Che Insomma Va fatto bene Bisogna Bisogna lavorare bene Una cosa Che io Io tengo Tengo tantissimo Perché col fatto Che abbiamo tanto lavoro Rischiamo tanto Poi insomma Io Fa questa cosa Di intelligenza artificiale No Che io ho un po' di pauretta Ce l'ho sinceramente A me A me Quando parli Di intelligenza artificiale Eleonora Mi viene sempre in mente Simone Mori Quando l'abbiamo avuto In diretta Ci ha detto Che per lui Cioè È talmente Tanto avanzata E secondo lui Ci ha detto Che il doppiaggio Sarà un mestiere Che finirà A noi Stata cosa Ci ha colpito molto Tempo dieci anni Anche ha detto Allora Ci ha dato anche Una scadenza temporale Però Sta cosa Ci ha sconvolto Da fruitori Allora guarda Ed è per questo Che A parte che poi Noi Non so se Se lo sapete No ma io Con mio marito Abbiamo Creato Insomma Vicks Vocal No E abbiamo Anche condotto Una Una campagna Contro L'intelligenza Artificiale Nel doppiaggio Perché Secondo me Il pericolo C'è Come dice Simone Però Proprio Per questo Noi dobbiamo Cioè Se noi siamo Al top Di qualità La voglia È Sì Può andare Molto vicino Eccetera Il pericolo È che Se la qualità Viene Viene a scemare Allora è chiaro Che tra un doppiaggio Mediocre E un doppiaggio Anche meno Di mediocre Però ho fatto Con l'intelligenza Artificiale In un futuro A due lire Perché adesso Magari costa tanto Un futuro A due lire Però a quel punto Però se invece Noi stiamo Sempre Al top Diventa un po' Difficile Perché da uno Ci dovrebbe stare Comunque Non è che Ci dovrebbe stare Per paura Di intelligenza Artificiale Però Insomma Di una tristezza Infinita No Cioè Stiamo parlando Di recitare Cavolo È Proprio Pura Emozione Cioè Poi sparirà Pure il cinema Perché comunque Come fai La voce Fai La faccia Con le Le espressioni Perché Insomma Non lo so Io purtroppo Su questo Mi permetto Un attimo Di Entrare Un po' A Io purtroppo Sono combattuto Su questa cosa Perché Essendo effettivamente Il mio campo Quello dello sviluppo L'intelligenza artificiale E tutto Mi trovo un po' Combattuto Da una parte E dall'altra Perché Da un lato Effettivamente Riconosco Che Lo stato In cui Si trova Attualmente Questo tipo Di tecnologia Almeno dal punto Di vista Del doppiaggio E del cinema Perché anche Nel cinema Stanno rischiando Su alcuni prodotti Nel senso che Vogliono cercare Di costruire Delle facce Magari di persone Che non ci sono più Con movimenti Sembianze Però come se ci fossero Quindi come se fossero Realmente sul set Cioè Stanno spingendo la cosa Un po' Oltre Quello che secondo me A livello etico È giusto Però Questo poi è un parere mio La cosa che secondo me È innegabile È che L'intelligenza artificiale Costosa o meno costosa Questo poi dipenderà Dall'industria in sé È un compromesso È un compromesso Di qualità Quindi nel momento In cui il pubblico Si abitua Ad un'alta qualità E pretende qualità Dai prodotti Che fruisce Allora L'intelligenza artificiale Trova spazio Magari in quei prodotti Non è giusto Definirli così Però Impropriamente Definiti minori Che ne so Ad esempio Un documentario In terza serata Ok Magari Lì trova spazio Ma è difficile Poi vederli in un film In una serie In un anime Però Per fare questo C'è bisogno Non solo Del vostro lavoro Qualitativo Ovviamente Ma anche Di un pubblico Allenato A riconoscere Ed apprezzare La qualità E soprattutto A lamentarsi Quando è giusto Farlo Quindi Ripeto So Che il potenziale È alto Ma secondo me Rimarrà comunque Un compromesso Cioè ci sono Altrune cose Che ancora oggi Non è facibile Infatti io Quando Cioè con Simone Anche Dico Vabbè sì Forse c'ha ragione Ma io Dico una frase Eroica Lutterò fino alla morte Però insomma Comunque sicuramente Farò di tutto Cioè Cavolo Questo lavoro Veramente L'ha iniziato Insieme ad altri Mio nonno Cioè Io mi sento Proprio Capito Non Sì 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 Chiaro Cioè Oltre Oltre al Fattore etico Che insomma Neanche stiamo A parlarne Poi a me piace La tecnologia Quindi Non Non è Però insomma Intanto Cominciamo a Cioè Tenere gli occhi aperti Sicuramente Perché secondo me È importante E a fare benissimo Cominciamo Continuiamo Esatto Perché è sempre stata Un'eccellenza italiana Ah sì Perché c'è tanto lavoro Questo è sempre un po' pericoloso No Perché comunque Però Dai Insomma L'importante Ognuno Singolarmente Deve dare il massimo Esatto Esatto Nel frattempo Fatemi ringraziare Gli amici di Voci Da nerd Ci hanno fatto un ride Benvenuti anche a tutti Ciao Tutti coloro Che si sono connessi In questo momento E Voci da nerd Esatto Allora Andiamo Andiamo alle domande Altrimenti qua Mi linciano Raga È inutile Continuate a fare Domande su D'Antonebbi Sappiate che io Non le reggo Le domande su D'Antonebbi Fatele soffrire Ormai è diventato È diventato Una Qualcosa di Allora Queste sono le domande A casa No Questo è Scelgo a casa Dalle domande Ora non mi va più Comunque Adesso non mi va più Willow Buonasera alla nostra ospita Tutti gli streamers Le accompagna la carriera Di Jennifer Aniston Con la sua voce Da molto tempo Quali sono gli oneri E gli onori Di essere legati Così strettamente Ad un'attrice Ci sono stati dei momenti In cui in un certo senso Avrebbe voluto Prendere una pausa Grazie di essere con noi Stasera No Solo onori Solo onori A parte che lei Appunto Mi sta simpatica Istintivamente Chiaramente Non la conosco Poi è Una bravissima attrice Fa spesso le commedie Io adoro Recitare le commedie Alcune sono veramente Divertentissime Lei è bravissima Quindi sono Sono contentissima Sinceramente Sempre Non ho Ok Sono contentissima Bene Sono ore Bene Bene Ho finalmente La domanda che aspettavo Su The Boys Quindi Puoi raccontarci La fa Roberto Della sua esperienza Di doppiaggio Del personaggio Di Madeleine Stilwell E qualche aneddoto Sulla direzione Della serie tv The Boys Ad esempio Sulla distribuzione Aspettate Oddio Vedete l'onora Bloccata Proprio sulla domanda Clu Sulla tua Su quella che aspettavo Da tanto tempo Eleonora Non te ne andare Lo so che ci abbiamo Spanchi Però una croce Dobbiamo tenerci Dai Stava scherzando Prima Stava scherzando Quando diceva Che voleva Una raccomandazione Ma non l'ho mai chiesta Hai chiesto Un aiutino Spanchi No Ho chiesto Un aiuto Per l'ansia Il karma Per non aver letto La domanda Su Downton Abbey Roberto Non me la tirare Per favore Guarda Io Non È veramente Questo È veramente Adesso Per Eleonora Sicuramente farà Un F5 Da cellulare Che sarebbe Un esco e rientro E Sarà prontissima A rispondere Alla domanda Su The Boys Nel frattempo Chat Sappiate che se Alcune delle vostre domande Non vengono lette È Andrea Che ogni domanda Parla tipo Tre quarti d'ora Quindi Prendeteve la Comunità No ma Era giusto Trattare l'argomento Sto scherzando Era giustissimo Era solo per scaricare Il barile Eccola Eleonora Vediamo Eccoci Siamo tornati Deve essere diventati Tutti neri Beh abbiamo capito Però che quando Accade così Basta uscire E rientrare Giusto No Eccoci Aspetta Vediamo Ci senti Eleonora Noi no No Non la sentiamo Non ti sentiamo più È vero Anche noi Prova a farla uscire E rientrare Ci senti adesso Perché dovrebbe No mi sento No Allora La faccio Uscire Sperando che poi Rientri Magari si è Surriscaldato il telefono Eh potrebbe accadere Sì è da telefono Perché abbiamo provato Da computer Prima E aveva dei problemi Tecnici Però Dai adesso La live Ce l'ha fatta Nonostante Andrea Si occupi di intelligenza Artificiale Non è riuscito A essere Di supporto Andrea non è riuscito A far collegare Una webcam Eleonora Ragazzi Non c'è Ragazzi Non c'è da collegare La webcam La sua è integrata Quindi se non Gliela riconosce La soluzione è una Non funziona La webcam Ok adesso ci senti Eleonora Non mi sento però Non ci senti più Che cosa è successo Noi ti sentiamo Mannaggia Noi ti sentiamo Ti vediamo anche fluida Aspetta Vado vicino al router Ok Non so se Dici che poi Era un problema Di internet Non credo Non so che dirti L'intelligenza artificiale La studia Andrea Questa non è Intelligenza artificiale Ragazzi C'è Xfire Mi ha fatto rire Che ha detto Delle vibes Della live Con Valentina Mari Non facciamo che Effettivamente Quella live È stata molto complessa A livello Tecnico Ci senti No Può essere Che si sia veramente Surriscaldato il telefono E quindi abbassa L'audio Almeno Ma teoricamente Dovrebbe comunque Sentirsi Probabilmente Gli ha preso Un'uscita audio Differente Per questo non ci sento Suppongo Prende un'uscita audio Differente Tipo una cuffia wireless De botto Eh può Succedere Può accadere Beh io la faccio Riuscire fuori Raga speriamo Patriota Stai bocottando La live Patriota Eh sì Proprio poi sulla domanda Su The Boys Avete visto Finalmente la domanda Rob ha fatto la mancumba Perché quello ha fatto E boom Me la sento giusta adesso Ci senti adesso? Sì Oh fantastico Trovo davanti a spostarmi Ma non era quello Ok Va bene va bene Allora ti stavamo facendo Una domanda di Roberto Su The Boys Che ti chiedeva Se puoi raccontare Della tua esperienza Di doppiaggio Sul personaggio Di Madeleine Stilwell E qualche aneddoto Sulla direzione Della serie tv Magari sulla distribuzione Allora Madeleine Stilwell Eh Va Dio Aneddoto Non ce n'è Sennò che Sono stata contenta Di ridoppiare lei Che ho Insomma Che era un po' Un po' Che non la faceva Ma mi sembra che non abbia fatto Tante cose No? Non ha fatte tantissimissime Per un periodo di tempo E quindi ultimamente La sto ridoppiando parecchio E quindi Mi ha fatto piacere Poi aneddoti Vabbè A parte la godibilità Della serie Per cui Tutte le Tutte le varie cose Che succedono Ma appunto È tutto Una sorpresa E Aneddoto No Sono continui Perché insomma Con Gianfranco Miranda Che Che fa Patriota C'è questa trasformazione No? Perché Gianfranco Non so se Voi probabilmente Lo conoscete Ma Sì sì Comunque È Una persona Molto 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 Mite Cioè Quanto Quanto ci possa essere Più lontano Da Da Patriota E E quindi Niente Viene assolutamente Posseduto Per cui No gli diciamo Che insomma Ste stupidaggine Che in realtà Lui Sotto questo aspetto Da Proprio Da 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 Agnellino Insomma Questo è Il E poi Per il resto No Insomma Particolari Aneddoti Legati Proprio Alla serie E alla trama No Se non che Ovviamente Siamo contentissimi Di farla Ci divertiamo Tantissimo Che scrive Poi appunto Quello che dicevo Prima No Cioè Tutte le scene 300 volte Quella È una serie Che ogni volta Che passa Che ripassa La scena Tu fai Oh ma hai visto Che dietro C'ha quella Ma hai visto Guarda quello Ma poi hai visto Capito È così piena Di cose Che È veramente Un privilegio Poterla Poterla dirigere Ancora più Che Che doppiarla Insomma Quindi E basta No Non ho Un grossi Se non che Ecco Posso dire Che con l'assistente Il doppiaggio No Che noi chiaramente Ci vediamo Tutto prima Durante la prima Visione Ma hai visto Che cosa Un whatsapp Continuo Di chi vede Per prima Di mini spoiler Perché comunque Insomma Non succede sempre No Comunque Sempre lavoro Quindi Se io faccio una serie Chiaramente la devo vedere tutta Certo Anche se non faccio Gli adattamenti E Non sempre È così Così vivace La 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 cosa Invece È Pazzesco C'è un continuo Colpo di scena Cioè Ma allora Voglio dire le cose Sempre paura Di Però Incappare In spoiler Sì Sì Luca Ma anche se lo sapesse Non può risponderti A sta domanda Perché se Leonora Sai già chi mettere Su Jeffrey Dean Morgan Come doppiatore Siccome lui sarà Una new entry Del cast Lo so Ho visto Ho visto No Ancora non me lo sono chiesto Perché talmente Insomma Non Non sappiamo Quando andremo in sala Quindi Ci penserò A tempo debito A proposito di spoiler Aspetta che era Con Con mia figlia Aspetta com'era Che gli ho detto Che a noi Purtroppo alle volte Succede No Oddio Che gli ho detto Ma tu fai Sì ma ha detto Mamma ma tu in quella serie Fai Tizia Fai come Sinceramente non mi ricordo Che serie Ah io ho fatto Io gli ho detto Sì quella che muore Ma Perché io Avendo doppiato La colonna Separata E avendo magari Sai alle volte Quando tu guardi Una cosa doppiata La tua parte È molto più rilevante Di quello che ti sembra Facendola Sì Io neanche Ma rapporto E quella moriva All'ultimo Cosa Mi ha odiato Chiaramente Quindi sto sempre Super attenta A quello che Che dico Insomma Noi praticamente Abbiamo avuto modo Di vederla crescere The Voice Anche con Le varie voci Del cast Abbiamo avuto Raffaele Gianfranco Insomma Alex Abbiamo un po' avuto I vari No Ed è effettivamente Geniale Nel suo Essere un po' Dissagrante In realtà Cioè è una serie Supereroi che È totalmente L'opposto Di una serie Classica Supereroi Quindi A noi piace Proprio per quello Cioè proprio per quello Jack Jack Buonasera Eleonora Innanzitutto Grazie per il tempo Che ci dedica Ci fa davvero piacere Scoprire questo Fantastico mondo Insieme a lei Comunque volevo Chiedere Che consiglio darebbe A tutti quegli aspiranti Attori Attrici Doppiatori Doppiatrici Che intraprendono Questa strada In questo periodo Così particolare Dove poi Non è possibile Assistere E fare tutte queste Belle cose Che vi devo dire Mi dispiace tanto Perché Perché io Il consiglio che davo Era Fai una bella scuola Di teatro E poi Vieni in sala Ad assistere Perché secondo me Poi quella Era la vera scuola Quindi I consigli Non ce l'ho Cioè Sono Fai una bella scuola Di teatro Se l'hai già fatta Forse Forse Non te lo so dire Insisti Ecco Una cosa che posso dire Se Insomma Se un minimo Magari hanno iniziato Se hanno dei contatti Se hanno avuto modo Di fare qualche turno Di insistere Di rompere le scatole Lo so Vado contro i miei interessi Però Però così Fregatevene Cioè Sicuramente Sicuramente Può darsi E quello fa Oddio E poi alla fine Magari Magari ti chiama Chiaramente Se sei bravo Invece Se no Magari Vede quell'altro C'è quell'altro Che magari Anche un pizzico Meno bravo di te Ma sta più dietro Cioè Dovete avere Faccia tosta E E chiudere un occhio Sul fatto Che Che sì Potete Risultare un po' Fastidiosi Però Vi dovete far notare Purtroppo Perché c'è Tantissima Tantissima Concorrenza Insomma Per carità Poi magari Non tutti sono all'altezza Però È come Come dire Infilarsi In uno spazio No? Sì Quindi comunque Devi Devi superare Cioè Non sono bellissime Queste cose Però È un periodo Veramente Difficile Per Ma io penso Che comunque Sia stato sempre È piuttosto difficile Però Ecco Non Non so dare Il mio consiglio Sarebbe Assisti Ok Domanda di Giulia Ok Come è stato Interpretare Mia Toretto Nella saga Di Fast and Furious E se personalmente Da fruitrice Sei una fan Della Della saga O meno Allora Io Sinceramente Non sono una fan Della saga Se non che Per carità Divertente Però insomma Non l'ho mai Eseguita Così Non sono una fan E Una volta C'era un collage Devo dire la verità Questo tipo Quattro anni fa Quindi eravamo Ancora Sono numeri Un po' Dietro E Un collage D'attrici Che avevo fatto Ma Questa chi è Cioè Per dire quanto Non devo essere sincero Ho fatto Ma come chi è È Mia Toretto Mi ha Toretto Ah sì Perché magari Era passato Parecchio tempo Certo Però è carina Simpatica Non voglio deludere Chi Chi Il Fan Però sì È divertente Però Cioè Proprio Tra le mie cose Preferite Però sono Contentissima E onorata Ovviamente Di Farlo Quindi È diventato un po' Particolare Fast and Furious Col tempo Adesso Adesso le macchine Volano Vanno Spazio Tra un po' Si trasformeranno Tra poco Si trasformano In robot E diventano Transformers Cioè Vanno Secondo me Sarebbe il finale Più epico Cioè Il crossover Tra Fast and Furious E in realtà Scopriamo Che eravamo Dentro Transformers Mamma mia Ora è diventato Cringe Un pochino Sì Dai Era diventato Cringe Già quando Mi sembra Nel quinto La macchina Saltava da un Grattacielo All'altro Adesso Proprio Sì a Dubai Esatto Esatto Però Personalissimo Pensiero Mio Luciano Luciano Ah no Scusa Luca Stavo saltando Sto cercando Di prenderne Una testa Così Cerco di non ripetere Sempre le stesse persone Buonasera Men Buonasera Ragazzi Buonasera Eleonora Altra farti i complimenti Per la tua carriera Ti faccio i complimenti Anche per la direzione Stupenda Che stai dando A The Witcher Volevo chiederti Se conoscevi Già l'universo E se hai avuto E se hai avuto difficoltà A scegliere Una voce Su un determinato Personaggio Questa Paracura E' una domanda In tre Perché poi chiede Anche se hai già In mente Chi scegliere Per i nuovi personaggi Stanno entrando Nel cast Da cui robia Mel L'ultima domanda Non può rispondere Facciamo le altre due Quindi che Se conoscevi già L'universo Di The Witcher E se hai avuto Difficoltà Magari su un determinato Personaggio Sei in dubbio Su chi scegliere Allora Non conoscevo L'universo Di The Witcher E Non conoscevo Il gioco E non conoscevo I romanzi Chiaramente Mi sono Subito documentata Il Probabilmente Lo sapete Ma il La serie Si deve Basare Sui romanzi C'è proprio Una richiesta Dell'autore Polacco Dei romanzi Quindi Anzi Lui proprio Si è Dissociato Dal Dal gioco E E quindi Niente Mi sono documentata Devo dire Grazie a Gianfranco Miranda Che invece Sapeva tutto Del gioco E dei romanzi Cioè Mi ha passato Tutto quanto Lui Insomma Mi ha girato tutto E quindi Mi sono documentata No Per quanto riguarda Le voci Anche lì Gianfranco Che si noterà È uno dei miei preferiti È perfetto Secondo me E il resto Perché il materiale È veramente Immenso Bastissimo Sì Ed è bella È bella Insomma A me piace molto Sì 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 Ah Ecco Vado a dire Delle voci Che sono particolarmente fiera Della Voce di Alessio Puccio Su Ranuncolo Perché Perché è stata Che Alessio Puccio è bravissimo Però insomma È stata Non so come dire Un'intuizione Di cui Di cui vado fiera Perché secondo me È perfetto Non era così scontato Mettercelo Capito Quindi Ecco Questa può essere Una curiosità Ah sì Molto C'è una domanda Del Sorlucio Luciano Ciao Luciano Ciao Com'è l'esperienza Dalla chat Bella Bella Oggi Oggi non sei stato convocato Però la prossima volta Partirei titolare Dato che l'abbiamo fatta Tutto il gruppo di Friends Ti chiede Com'è stata L'esperienza Del bagno Nella fontana Con la faccina Sorridendo Cioè l'esperienza Dal vivo Esatto È stato È stato bello Un ricordo bellissimo Una fatica Mostrosa Mi ricordo Però Però fighissima Perché comunque Cioè Le mosse sono le stesse Io sono Io sono fierissima Di Di quella cosa E È un ricordo Meraviglioso Meraviglioso Ogni volta che la guardo Mi diverto tantissimo Poi Insomma È ovvio Cioè Vittorio Quindi questo Con quelle sue tazzette Con quei suoi sorrisi Tipicamente Suoi Cioè Quello proprio È proprio Vittorio Com'era Quindi insomma Ci sono Ci sono Super Super Legate Anche poi Il ragazzo Poverino Che Insomma Che ha organizzato Tutto Anche lui Non si è più Quindi Insomma Ci stanno Intorno Una serie Un po' Di cose Di cose Tristiche Però come Dico io No Uno Poi volge Sono contenta Per la fatta E sono contenta Ogni volta Di vedere Vittorio Con quel In quel sorriso E con quelle facce Insomma Ecco Diciamo Me lo godo Invece di Pensare Anche se Ovvio Poi Non c'è più Insomma Però ecco Questa Come Come rivivere Dei momenti Quindi Ci sono Doppiamente Legata Perché mi ricorda Mi riporta divertimento Insomma Così Felicità Bello Infatti Anche Gli altri Tuoi colleghi Che erano Stati coinvolti Che abbiamo avuto Qui Lo ricordano Tutti Devo dire Con estremo Piacere E poi Devo dire Io Ovviamente Non conosco Non conoscevo Il background Però a vederla Cioè È veramente Identica Si vede C'è stato Uno studio Fatmi dire Maniacale Perché è Impressionante Ti dico Noi eravamo Distrutti Anche perché Non ce l'aspettavamo No Comunque Facciamo Che dite Facciamo Lasciare Sì Vabbè Mamma mia Ogni pezzetto Però Vabbè Insomma Una cosa Che resta Bello Vero È venuta Molto bene Allora Ragazzuoli Io faccio Le ultime Tre domande Dalla chat E poi andiamo In chiusura Perché so Che voi dite Sequestriamo gli ospiti Ma no Eleonora è stata Molto carina E disponibile Di essere con noi Stasera Quindi Ultime tre domande E poi Ci salutiamo Anche perché Tutte le cose belle Prima o poi Devono finire Buonasera a tutti Questa è Chuck's Fire Buonasera Eleonora Grazie mille per stasera È un grandissimo piacere Poterla ascoltare Vorrei chiedere La sua esperienza Su Passo Adelante E You Mi Her Si chiama? You Mi Her Ok Ah sì You Mi Her Grazie mille PST Morgana Forever Col cuoricino Grazie Grazie Infatti Approfitto e ringrazio Oltre che voi Tutti loro Insomma Perché sono sempre Una volta che leggi Sono così carini Grazie 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 a voi Passo Adelante Stiamo parlando Della preistoria Che ti posso dire Che ti posso dire Insomma Ero giovane Una serie Carina Divertente E You Mi Era una serie Secondo me Forte Perché Per chi non lo sapesse Non so se voi la conoscete È una relazione a tre Cioè praticamente Quella che faccio io Sposata con uno Lui Conosce questa Adesso non mi ricordo come Si mette con lei Poi si mette pure con me Insomma alla fine Stanno tutte e tre insieme Questo è un po' il succo E ci stanno tutte varie dinamiche Gelosie eccetera Ma è molto carina Perché tutto Affronta questo tema In un modo Carinissimo Perché è tutto Naturale E tutto Plausibile E quindi Secondo me È una È una chicca Perché a parte che è divertente Ma è Insomma È È credibile Non è Non è mai volgare Non è un'ostentazione È veramente Carina E È proprio Affronta Benissimo Tutte queste dinamiche Quindi è una serie A cui io Tengo tantissimo Mi fa piacere Anzi che È stata nominata Questa sera Ok No Non la conoscevo Sinceramente Quindi È molto carina Da recuperare Da recuperare E Guarda che C'è Mi chiede La stessa Ragazza che ha fatto Questa domanda Man Se leggi la mia domanda Per favore Può aggiungere Tra le serie Da chiedere anche Morgana di Merlin Please Tu sei il vero eroe Non è proprio Un messaggio paraculo Proprio zero Guarda È un messaggio paraculo Però dato che Mi fai complimenti Io sono molto incline E debole Verso i complimenti A me stesso Io gliela pongo Quindi Mi chiede di inserire Anche una considerazione Su Morgana Di Merlin Allora Morgana Quell'attrice Mi sa Non l'ho più fatta Lo sai O forse una volta No l'ho fatta una volta L'ho fatta in una serie Mi dispiace Perché secondo me Quell'attrice è brava E E bella E Vabbè La serie È carinissima Mi sono divertita Tantissimo A farla Costumi bellissimi Pure quella È stata Una serie Voi non so se la conoscete Però è una serie Molto carina L'idea è molto carina E Che dire È stato Un piacerone Insomma Parla E Basta Sinceramente Non so cosa aggiungere Nel senso che È stata divertente Sempre Tra l'altro Molti erano Friends Cioè la direzione Era di Massimo D'Ambrosis Che era Sandler Poi c'era Rossella Cerbo Che è Fred Insomma Sempre In atmosfera Anche la lavorazione Carina Ok Penultima domanda Di Gaetano Ciao Gaetano Buonasera Men E ciao Che carini Hai visto come Salutano sempre Tutti anche me Adesso Non solo Sono bellissimi Che ricordi hai Della serie I Robinson Dove doppiavi Pamela Pam Tucker Un carissimo saluto Allora Proprio Super sincerità Non Se lo dice Lui o lei Lui Gaetano Lui Gaetano Sì Probabilmente È vero Ma Non ho alcun ricordo Perché non me lo ricordo Proprio Di aver doppiato Qualcuno I Robinson Mi dispiace Deluderlo Però Sinceramente Non me lo ricordo Proprio Eh vabbè Immagino Ci sta anche Insomma I ruoli Che hai Parliamo Di Robins Sì sì Ma infatti È una domanda Cioè Un prodotto Tra l'altro Molto Passato No Poi Insomma Era carino Io lo guardavo Ma Ripeto Se lui lo dice Sicuramente è così Però mi sembra strano Che doppiassi Un personaggio Evidentemente fisso Però non me lo ricordo Che devo fare Non me lo ricordo Vabbè Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta E Oddio raga Non continuate A far domande L'ultima La pesco Su Vediamo Come su Eh vabbè Questa la devo fare Però Su Afterlife No No Purtroppo Non è uscito Infatti siete brutte persone Perché Afterlife È una serie Meravigliosa E sui Beh vabbè Una cosa È una serie Meravigliosa Sì sì Meravigliosa Fuori scala Fuori scala È vero Allora Eleonora Ti faccio scegliere a te Vogliamo rispondere a Come ultima domanda Il personaggio Che ti è piaciuto di più Doppiare di Raki Oppure All'esperienza Sui Gunis Esperienza sui Gunis Andata Allora L'esperienza sui Gunis Intanto Fino a 20 anni fa Gunis Non li conosceva nessuno Quando è uscito il film Al cinema Non se l'è filato nessuno È diventato un cult Dopo Per la generazione Le generazioni successive Perché Con i passaggi in televisione In realtà E L'esperienza è carina Io ero Avevo 18 anni E Feci il provino E Insomma Devo dire Mi ricordo Mi applicai tantissimo Perché ero comunque Abbastanza Agli inizi Però Sinceramente Me ne ero accorta Che Che forse Ce l'avrei fatto Provino che andava in America Questi qua Così Ah Una cosa divertente Può essere che Chiaramente I provini Quando Adesso Non è possibile Non lo permetterebbero mai Però All'epoca Quando le ragazze Facevano i bambini maschi Spesso si dava L'annuncio Del provino Perché C'è il provino Il provino per Mikey Eleonora De Angelis Provino per Mikey De Angelis Per non far capire Che era una donna No? Una voce femminile Anche nei titoli di coda E De Angelis Non c'è scritto Eleonora De Angelis Per evitare Cos'è E E niente Quindi Un film che ho amato tantissimo Non era in colonna separata Quindi eravamo Quattro ragazzi Ragazzini Tutto il giorno Insieme È durato Più di un mese Andavamo a scuola Quindi i turni Iniziavano le due Perché noi dovevamo uscire Da scuola E E niente C'ho questa cosa Che mi rimase impressa Che c'era Michele Cammino Che disse Ah questo film è proprio bello Ma non se lo filerà a nessuno Dice perché Questo Piace a noi Così insomma Detti a lavoro Infatti insomma In realtà fu così E invece poi ha avuto questa È diventato un cult Per cui Hai un'altra cosa Che mi hanno detto Che hanno chiesto Quando hanno chiesto le voci Non so Sarà per Stranger Things Probabilmente O per qualcos'altro Per Sean Austin Tra i provini Hanno chiesto De Angelis Perché l'ha affacciato E poi insomma Tra l'altro è diventato anche bello Sì Sì è vero E quindi E quindi verrà un ricordo bellissimo Un film bellissimo Mi fa così piacere Che Ah L'ultimo L'ultima cosa riguardo ai Gunis Che secondo me è abbastanza divertente Sono andata Quando l'hanno fatto riuscire al cinema Tre anni fa Mi pare Una cosa del genere Con mio figlio A vederlo Che sì Gli è piaciuto Però c'erano tutti Quarantenni Quarantacinque anni Con i figli E sì Quarantenni più o meno E c'erano Questi quarantenni Che ridevano come pazzi Che dicevano le battute E c'erano i figli Che stavano lì Insomma Sorridevano Però con un Con un'aria un po' di sofficienza Insomma Anche mio figlio Ha detto Ti è piaciuto Carino E quindi Questa cosa È stata carinissima Perché tutti Che hanno portato i figli E i figli Insomma Però invece loro Sembrano Veramente dei bambinoni Veramente carini Perché l'abbiamo vissuto E ci ha fatto tornare indietro E poi rivederlo Forte Molto forte Però adesso Come dicevo prima Andiamo in chiusura Ovviamente io Andrei a ringraziare Tutti voi Che avete Seguito questa diretta Insomma È sempre bello Vedere una community Numerosa Educata Carina E quindi Anch'io le ringrazio tutti Bene Bene Grazie Eleonora Un saluto Anche un grazie particolare Ai mod Che sono la pulizia del canale Che fanno in modo Che si crei Questa atmosfera Molto carina in chat Quindi Jackie E fanpage E grazie ai miei streamer Però il grazie più grande Stasera vai Eleonora Eleonora Grazie mille Speriamo che ti sei trovata bene Che non ci blocchi Benissimo Grazie a voi Siete bravissimi E veramente Simpaticissimi No No Eleonora Ero sicuro Sono simpaticissimi Ma Perché era La citazione La citazione A quello che ho detto All'inizio Sul più Esatto Jack fa No sul più bello Niente Noi nei complimenti Non dobbiamo prenderli Basta Sto piangendo Sto piangendo No aspettate Non ve ne andate Ragazzuoli Perché vogliamo Sentire quello che ha da dire Eleonora Ormai Ormai Sì Ormai 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 siamo Vi voglio tutti qua Non ve ne andate Anche perché poi vi faccio Un paio di spoiler carini Per finire Quindi non ve ne andate Come un paio di spoiler Com'è un paio di spoiler Lo sto dicendo Lo sto dicendo per non farli andare via Perché vogliamo sentire Eleonora Innanzitutto Fai i complimenti Perché non te li prendi E poi il paio di spoiler Che potrebbero far preoccupare Andrea Ma io sì sono molto preoccupato dagli spoiler Eleonora ci sei Ci senti? Sì Grazie ragazzi No ci siamo bloccati sul più bello Però avevamo capito che erano complimenti Quindi ti ringraziamo insomma No grazie Siete proprio carini Bravi Allegri Bravissimi Grazie Sono fighi Questi complimenti Tra le spanchi Esatto Tra le spanchi Soprattutto spanchi Soprattutto spanchi Ok quindi noi Un gravino Solidarità femminile Va bene va bene Allora noi Prima di andare via Vi avevo promesso un paio di spoiler Quindi ve li farò Ok domani ci sarò io in diretta da solo Però Siateci perché sì E questo non è un grande spoiler Salotto venerdì Saremo Appena tornati da un evento Saremo a un altro evento Perché saremo al Pescara Comics Dove avremo sette live talks sul palco E due panel da gestire Con ospiti fighissimi Tipo Francesco Manna Fumettista Marvel Pietro Ubaldi Ormai amico del canale Mister Marra Content creator Facente parte anche del Cerbero Podcast Michele Posa Storico commentatore Del Wrestling Un panel dove presenteremo con ospiti Francesco Vairano e Fabrizio Vidale Su tutta la saga del Signore degli Anelli Poi avremo in più anche Massimiliano Manfredi il giorno dopo Carmine Di Giandomenico Fumettista straordinario Marco Mastrazzo Insomma vi ho fatto un sacco di spoiler Quindi chi vuole vederci dal vivo Saremo a Pescara questo weekend Avremo anche l'occasione di vederci e incontrarci e farci qualche potenziale Incontrarci al vivo Scambiarci vigorose pacche sulle spalle Pacche sulle spalle Esatto E invece prossima settimana Non vi posso ancora dire chi ci sarà come ospite sul nostro canale Perché abbiamo dei vincoli di programmazione Però nulla mi vieta di farvelo capire Quindi lunedì ci sarà un bravissimo attore Che ha recitato a fianco a Benigni Nella vita è bella E in una serie di successo Il capo dei capi Mentre martedì Una bravissima attrice e doppiatrice Voce di Alicia Sierra In La casa di carta E Wonder Woman nel DCU Buonanotte a tutti Con questi spoiler Grazie ancora Eleonora E un bacio a tutti Vi aspetto tutti domani Non scappate Ciao Grazie Buonanotte Grazie